Avvocato Franceschini, secondo lei è importante perché la funzione legale e quella di compliance siano separate? Diciamo che in un mondo in cui le norme e le autorità di regolazione si stanno moltiplicando è sempre più importante avere non solo un'interpretazione della norma che è compito della direzione legale classica ma la costruzione di modelli di compliance, quindi di sistemi di prevenzione che consentano quindi all'azienda di dotarsi di tutta una struttura, di procedure eccetera che possa consentirle di più agevolmente dimostrare la propria conformità alle norme. Quindi in questo ruolo la compliance è un po' diversa dal legale, fa attività preventiva il legale invece agisce solitamente o come partner del business per l'impostazione delle soluzioni legali all'iniziativa di business oppure come patologo, tra virgolette, legale. Diciamo la compliance invece è un insieme di attività volte a costruire modelli di prevenzione. Grazie. Prego.